Il sindaco Simone Ugetti e l'avvocato Cristiano Marini questa mattina sono stati sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere in esecuzione dell'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Lodi a seguito di una turbata libertà degli incanti. In particolare il sindaco e l'avvocato sono accusati di aver alterato il libero svolgimento della gara relativa all'affidamento in concessione del servizio di gestione delle piscine comunali scoperte Belgiardino e Attilio Concardi. La turbativa si è realizzata attraverso il confezionamento del bando con l'espresso riconoscimento di punteggi che potessero in concreto favorire la società Sport in Lodi di cui Marini è consigliere e garantirle il buon esito dell'appalto. Il risultato dell'accordo fraudolento realizzatosi nel corso dell'intera procedura di gara come monitorato dalla Procura e dalla Guardia di Finanza è stato l'allontanamento dei possibili concorrenti e l'aggiudicazione della stessa alla Sport in Lodi. L'inchiesta che ha portato in carcere Ugetti e l'avvocato Cristiano Marini è nata dalla denuncia di una funzionaria comunale incaricata di predisporre il bando di gara ritenuto pilotato. Il sindaco Simone Ugetti, 42 anni nativo di Sant'Angelo Lodigiano, è stato eletto sindaco di Lodi il 10 giugno 2013 al ballottaggio con il 53,62% dei voti, entrando formalmente in carica dal giorno successivo.